ragazzi benvenuti a beyond the mat è stato un weekend pieno di sorprese e chi se l'aspettava tra l'altro tutti abbiamo mangiato la foglia perché non lo vedrai mai arrivare ve lo dico in italiano mi sono perso in inglese tutti pensavano a The Fiend tutti pensavano all'archeo di Randy Orton ma non a lui è stato sicuramente il ritorno più bello e più col botto e la WWE stavolta mi ha sorpreso veramente mi ha sorpreso ho indovinato un pronostico The Fiend campione l'ho indovinato ma la cosa appunto più importante è stato veramente che la WWE è riuscita a sorprenderci dopo dei pay per view piatti dopo degli show settimanali abbastanza così così è stato veramente bello tutto SummerSlam chiaro ogni pay per view ha i suoi incontri più e i suoi incontri meno però se lo giudichiamo in un'ottica complessiva SummerSlam è stato un ottimo pay per view nessuno può negarlo soprattutto con il botto finale cioè il ritorno di Roman Reigns ma è stato tutto un weekend di wrestling sorprendente andiamo un po in ordine di logica partiamo da AW Dynamite che è andato in onda di sabato sera e che ha visto Cody Rhodes perdere il titolo forse con un lottatore che aveva lo status pronto per esaltare quel titolo The Exalted One Brody Lee capo del New World Order Dark Order è riuscito a conquistare la cintura in una bella storyline veramente bella le storyline che coinvolgono il Dark Order sono sempre molto sinistre molto interessanti l'arrivo di Thunder Rosa a AW Dynamite l'arrivo di Thunder Rosa ottimo acquisto ragazzi chi non lo conosce è un ottimo acquisto chi non la conosce per la divisione femminile AW ora non so se il contratto è fatto oppure sarà una sorta di collaborazione con la NWA perché lei si è presentata con la cintura di campionessa NWA altra grande sorpresa è stato intorno ad NXT intanto Keith Lee che perde il titolo contro Carrion Cross è stato sorprendente ma tanti giudicano come la sconfitta di Keith Lee il suo passaggio nel main roster questo potrebbe essere un indizio l'altra grande sorpresa è stato l'incontro Adam Cole contro Pat McAfee chi se l'aspettava incontro sorprendente io mi aspettavo magari un Pat McAfee che bocciava perché non l'abbiamo mai visto sul ring onestamente parlando e invece ha fatto veramente un bel incontro contro un signore del wrestling come Adam Cole chi mi ha sorpreso un po' in negativo è stato il ladder match non perché non sia stato bello perché per carità è stato un buon match però ho visto ladder match migliori ad NXT non so se c'erano i performer giusti si vedeva che The Teen Dream era un po' messo da parte si dice che ci sia molto astio nei suoi confronti sul fatto che ci sia una sorta di mezza raccomandazione per lui dopo tutto quello che è successo ai margini della sua vicenda della sua storia quindi parlo di storia personale tanti wrestler lo accusano che fosse stato un altro sarebbe stato licenziato ma l'altro grande incontro è stato qui alle spalle è passato adesso Asuka contro Sasha Banks penso il miglior incontro della serata a me ha emozionato tantissimo con l'incontro lì ma ha emozionato tantissimo anche il debutto di Dominic Mysterio secondo me ha fatto un'ottima figura un bel dna di wrestling chiaro deve affinare alcune tecniche chiaro io non sono wrestler quindi non posso capire però il ragazzo secondo me ha delle ottime potenzialità veramente ha fatto e contro Seth Rollins non contro uno qualunque cioè andare a mettersi e debuttare in WWE sul ring con una leggenda possiamo chiamarlo leggenda futura leggenda del wrestling come Seth Rollins ragazzi non è da tutti l'emozione può tradirti puoi bocciare puoi fare tante stronzate invece lui è stato molto l'ho visto molto concentrato sul ring a fare delle belle cose e poi alla fine anche comunque non mi aspettavo la vittoria di Drew McIntyre tutte le voci parlavano di una vittoria di Randy Orton l'ho detto anche nella cosiddetta preview qui alle mie spalle è stato giudicato il peggior incontro della serata cosa vi aspettavate? fuoco e fiamme non erano certamente lì per fare fuoco e fiamme e infine come ho detto all'inizio Roman Reigns il ritorno è stato fenomenale un Roman Reigns diverso un personaggio diverso e sicuramente apre nuovi scenari insomma in WWE con il ritorno suo io mi sto domandando che fine fa Otis perché l'abbiamo appena visto alle mie spalle ha la valigetta e non c'è ancora nessuna storyline sulla valigetta per lui non lo so è l'unica cosa che ancora non riesco a capire in WWE dovevano... secondo me doveva essersi già qualcosa per lui e sembra che non abbiano progetti creativi non lo so staremo a vedere ragazzi questo è tutto per il report di questo weekend che secondo me è stato sorprendente ci rivediamo per un prossimo appuntamento non so dove e non so quando ciao ragazzi